ciao a tutti oggi invece di parlare di libri dei miei libri come faccio di solito volevo parlarvi di qualcosa di diverso volevo parlarvi sempre rimanendo nell'ambito dell'editoria di un lettore ebook questo il book in ocean un lettore ebook che si differenzia dagli altri lettori book sul mercato perché ha un display più grande da 8 pollici che lo fa somigliare quasi nella parte dedicata al testo a una pagina di un libro economico questo è l'aspetto che più mi ha incuriosito di questo lettore e cercando su internet non ho trovato molte recensioni allora ho pensato di farla io ed eccolo qui il book in saibook ocean la costruzione è certamente buona come assemblaggio adesso è in stand by accendiamo la parte posteriore comunque fatta di un materiale che al tatto non scivola questa qui sotto è la è lo sportellino all'interno della quale alloggia la scheda sd fidatevi è un casino da aprire quindi evito di aprirlo ma mettiamo un attimo da parte questa è la sua confezione viene venduto di fatto con questa bustina con all'interno una serie di istruzioni e questo scatolotto che contiene solamente il cavo usb micro usb ma concentriamoci sul sul lettore ci avviciniamo ma ecco qua perfetto quindi intanto le caratteristiche del del lettore lo schermo come detto è uno schermo da 8 pollici ha una risoluzione di 1024 x 768 con 160 dpi è in scala di grigi ed è touchscreen ma capacitivo la cpu è una cortex a 800 megahertz a 128 mega di ram grande 196 millimetri per 150 millimetri per soli 7 millimetri di spessore lo storage è da 4 giga ed è spandibile come detto con dell'sd fino a 32 giga alla connessione wifi bgn legge ipub pdf anche con adobe drm html txt fb2 e djvu djvu io francamente non so cosa siano ma vabbè i mobi quindi di amazon non li legge ho fatto una verifica e in effetti è così i mobi non sono neanche visti dal dal dall'ocean ma cominciamo a vedere com'è fatta l'interfaccia allora il tasto principale ci permette di andare prima di tutto alla home dove abbiamo il libro che è in lettura abbiamo i libri recenti e abbiamo un ebook store questo in realtà non è vero ebook store che si raggiunge dal dal tasto home più negozio ma questo è semplicemente il link al browser web che ci permette poi in teoria di andare a collegarci a un qualunque ebook store scaricarci il nostro libro io ho provato con il ebook store newton compton mi sono sono riuscito a loggarmi ma non c'è stato verso di scaricare e scaricare quelli che sono i miei libri e quindi poi di copiarli nella memoria immagino che si possa fare di con la verità io non ci sono riuscito ma francamente andare a mettere password nomi utenti all'interno di un browser con una tastiera di questo tipo è davvero molto 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 complicato quindi questa qui era è la schermata home abbiamo detto la seconda cosa che possiamo vedere il negozio il negozio è il negozio book in se non avete un account vi chiederà di crearvelo vi chiederà di inserire anche i vostri dati dell'account adobe per leggere gli ebook che siano provvisti di drm ma il problema grosso è che in questo negozio dopo che voi avete fatto tutte le configurazioni avete creato l'account avete inserito dati con grande difficoltà perché la tastiera non è che sia particolarmente reattiva la verità è che poi i libri italiani in questo in questo store io non ne ho trovati la chiavi danti non l'ho trovata e i libri newton compton non li ho trovati ho provato a cercare marcello simoni che più di più di lui direi che in ambito in ambito ebook non è che sono in tanti che vendono di più o comunque non c'è nemmeno nemmeno lui quindi non l'utilità per noi di entrare in questo in questo ebook store è di fatto praticamente nulla l'alternativa quindi per caricare e qui andiamo a vedere come è fatta la biblioteca per caricare i nostri libri quindi collegarlo via usb e copiare dentro da attraverso il computer quelle che sono le nostre i nostri file come detto legge i pub li legge molto bene qui potete vedere per esempio i libri che sono in lettura questi sono i libri che ci sono in lettura potete vedere tutti i libri che sono presenti all'interno del del negozio e della libreria potete vederli con elenco oppure soltanto tramite la visualizzazione delle copertine potete potete dividerli in collezioni che ci sono collezioni di libri italiani che sono già presenti all'interno della biblioteca quando voi configurate il telefono mi sono una serie di libri gratuiti basta nel senso che la libreria non ha tantissimo da da proporvi di più l'ulteriore elemento che vi faccio vedere è la luce l'illuminazione vi dico che funziona abbastanza bene al al buio potete attivarla potete metterla massima o minima con una certa facilità potete disattivarla per quanto riguarda l'interfaccia come vedete l'interfaccia è fatta da queste quattro icone più la scritta menù ogni volta che voi selezionate biblioteca schicciate menù lui vi porta al al menu relativo al diciamo alla voce che avete selezionato se voi andate nella nella home e schiacciate il tasto menù successivamente lui vi porta alle impostazioni del menu della della home che sono delle impostazioni abbastanza abbastanza basilari la scelta delle lingue i dizionari disponibili vi dico già che c'è un dizionario italiano più uno francese più uno tedesco vi fa mettere le impostazioni per il wifi ho provato il wifi funziona abbastanza bene e all'interno di avanzato c'è la possibilità di resettarlo di stabilire la modalità di riposo le volte in cui la pagina si refrescia di spegnerlo per invece che metterlo in stand by ma adesso direi che possiamo andare a vedere come vengono visualizzati i libri allora come abbiamo detto i libri possono essere visualizzati in diversi formati tra cui il più importante certamente l'ipub ne apriamo uno per vedere per vedere come è fatto e qui andiamo di fatto ad analizzare quello che il problema grosso di questo di questo display avete visto il software comunque abbastanza reattivo il problema è che questo display da 8 pollici è assolutamente sbiadito il colore e qui ve lo paragono con un vecchissimo cobo il colore è tutto sommato abbastanza paragonabile della pagina non è bianco uguale anche rispetto a questo cobo ma quello che comunque balza agli occhi è la differenza tra il nero del cobo che è un cobo comunque di di due tre anni fa e il grigio perché non si può chiamare nero del del buchin quello che è evidente quindi che oltre esserci un problema di risoluzione che abbiamo detto essere abbastanza bassa c'è quindi un problema di contrasto ed è questo sostanzialmente che rende la cosa più difficile la l'utilizzo giornaliero di questo tipo di prodotto la gestione del dell'ipub è comunque un'ottima gestione ai livelli di cobo per esempio le impostazioni del testo ci permettono di modificare l'interlina di modificare i margini modificare l'allineamento possiamo scegliere tra una serie di caratteri possiamo scegliere tra lo stile dell'editore oppure un nostro stile personale e andando sulle impostazioni avanzate abbiamo la possibilità di sillabare oppure di mettere il testo in grassetto oppure di selezionare altri rispetto a quelli che sono i caratteri che troviamo nella pagina principale quindi la gestione dell'ipub non ha assolutamente nulla da inviare da invidiare alla gestione degli ipub da parte di un lettore cobo normalissimo come vedete il touch funziona con il touch possiamo anche andare a ingrandire il testo più più comodamente rispetto a quando entriamo all'interno del del menu ma con evidenza vediamo se riesco avvicinando lo zoom a farvi vedere che anche c'è anche un problema di di soluzione c'è il testo non è ben definito ma ovviamente a causa della bassa definizione soprattutto quando abbiamo dei caratteri relativamente piccoli che fanno assomigliare diciamo la pagina alla pagina di un lettore alla pagina di un libro magari di un libro economico che è il motivo sostanziale per cui io avevo voluto provare questo questo lettore comunque ci rendiamo conto insomma che la risoluzione è quella che è ma soprattutto quello che crea maggiori problemi è questa assenza di contrasto questo grigio su grigio la pagina è tutt'altro che bianca e il nero del del testo è tutt'altro che nero passiamo adesso alla visualizzazione di un pdf vediamo pdf lo andiamo a raggiungere dalla libreria dalla biblioteca in lettura dovrei avere dei pdf eccolo qua qui per esempio abbiamo un pdf è un file di una compagnia di assicurazione sono le condizioni dell'assicurazione vedete mi fa vedere il pdf ma la cosa bella nella gestione del pdf è la possibilità di attivare questa funzione scorri il testo di nuovo se noi l'attiviamo lui se ne fotte dell'impostazione grafica e ci propone la pagina con tutti i testi uno dietro l'altro in maniera che siano più leggibili devo dire che funziona abbastanza bene e funziona anche con con i libri in pdf adesso vi faccio vedere come viene visualizzato un libro se qua si riesce a chiudere vi faccio vedere avevo in giro la cospirazione degli illuminati in pdf credo che sia questo questo è il libro allora questa è la visualizzazione con scorre il testo di nuovo in assenza se noi la disabilitiamo vediamo che comunque il testo è leggibile proprio perché c'è un'opzione che ci consente di tagliare i margini che è questa qua taglia i margini direi che per quanto riguarda la gestione del firmware ho detto tutto arriviamo adesso con le conclusioni in sintesi questo lettore ebook è un lettore di nicchia che si caratterizza da molti chiari scuri i pregi sono intanto la costruzione e l'assemblaggio fatta eccezione per lo sportellino posteriore che poteva essere forse studiato meglio certamente ha un buon software per quanto riguarda la gestione della lettura degli epub e ha ovviamente questo bel display da 8 pollici che di fatto lo differenzia da quello che propone il mercato normalmente che è un 6 pollici quello che doveva essere il plus di questo dispositivo ne rappresenta però il tallone principale intanto per la risoluzione davvero bassissima che fa risultare il testo soprattutto quando è piccolo ovviamente molto poco definito non sarebbe questo però il problema più grosso il problema più grosso è sostanzialmente l'assenza di contrasto tra lo sfondo della pagina che è molto lontano dal kinder paper white come colore e il colore del testo che è un grigino poco più scuro di fatto passatemi in termine rispetto alla colorazione della pagina abbiamo una sensazione come di avere davanti tra noi e la pagina il display un qualcosa che si frappone non ci permette di vedere bene la parola che mi viene da dire è sbiadito e avete visto il paragone tra questo e un cobo di abbastanza datato quello quindi che doveva essere l'elemento fondamentale che poteva far scegliere questo dispositivo al posto di un altro cioè il display di fatto è il motivo per il quale questo dispositivo è senza dubbio da considerare come perfettibile non mi sento di consigliarlo a chi ama la lettura soprattutto perché l'assenza di contrasto e la poca definizione rende faticosa la rende faticosa e quindi non la rende non la rende piacevole certo è che questo book in che ricorda tra l'altro come forma anche quei classici lettori che utilizzavano in battlestar galattica questo book in potrebbe essere il passo per quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro del mercato ebook quantomeno se ci fosse un lettore ebook con queste caratteristime ma con un display non dico come quello degli ultimi kindle ma un display appena passabile sarebbe certamente il mio lettore questo purtroppo non può esserlo ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti